Cartier-Santos Skeleton, un orologio da polso di lusso e di storia. Il Cartier-Santos Skeleton è uno dei modelli più iconici e raffinati della casa orologera francese, che unisce il fascino della tradizione con la modernità della tecnologia. Si tratta di un orologio da polso con cassa quadrata e movimento scheletrato, che lascia intravedere il meccanismo interno e le cifre romane che formano il quadrante. Il risultato è un effetto di eleganza e trasparenza, che mette in evidenza la maestria artigianale e la creatività di Cartier. Il Cartier-Santos Skeleton ha una storia che risale al 1904, quando lui Cartier creò il primo orologio da polso per il suo amico e pioniere dell'aviazione Alberto Santos Dumont. Questi aveva bisogno di un orologio pratico e leggibile da indossare durante i suoi voli, senza dover ricorrere agli ingombranti orologi da tasca. Cartier gli realizzò un orologio con cassa quadrata e cinturino in pelle, che divenne presto un simbolo di stile e di innovazione. Il modello fu chiamato Santos in onore del suo destinatario, e fu il primo orologio da polso maschile prodotto in serie da Cartier. Cartier non solo ha realizzato il primo orologio da polso maschile ma ha anche rivoluzionato la tecnica di creazione dei movimenti scheletrati. Da sempre, infatti, per la casa della Pantera la tecnica deve essere al servizio dell'estetica. Non più artigiani specializzati che limano e riducono all'osso i meccanismi dell'orologio, ma una creazione mirata sin dalla sua progettazione per ottenere non solo estetica, ma anche resistenza strutturale. Un approccio alla scheletratura completamente innovativo che ha influenzato anche tutte le altre manifatture. Il Cartier Santos Scheleton è un orologio da polso che ha conquistato il cuore di molti personaggi famosi nel corso della sua storia. Oggi è uno degli orologi più apprezzati e considerati stato simbol per le nuove figure della musica rap italiana, europea e mondiale. Parlando del nostro paese possiamo menzionare personaggi come Gwee, che è stato visto più volte con uno straordinario Cartier Santos Scheleton. Il Cartier Santos Scheleton è un orologio da polso che non ha solo fatto la storia dell'orologeria, ma anche quella dell'arte e della cultura. È un capolavoro di design e di tecnologia, che esprime al meglio lo spirito innovativo e l'eleganza senza tempo di Cartier. È un orologio da polso che si adatta a ogni occasione e a ogni personalità, grazie alla sua versatilità e alla sua raffinatezza. È un orologio da polso che non passa mai di moda, ma anzi si rinnova continuamente, seguendo le tendenze e le esigenze del mercato. È un orologio da polso che merita di essere scoperto e apprezzato da tutti gli amanti dell'orologeria di lusso.